eccomi qua ci sono benvenuti a tutti oggi parliamo un pochettino di questo live action di one piece di netflix sicuramente ne avranno già parlato tutti tutte chiunque ovunque su youtube ma anche su altre piattaforme abbiamo fatto anche un po il live domenica io kataguri brook insieme a freddo prossiglione hop unity però mi ero ripromesso infatti ho detto molto poco di riparlarne oggi e quindi è importante parlarne adesso vabbè l'hashtag sarà sempre inerente a tutto quindi one piece live action però la cosa importante è che sarà una riacchiata molto tranquilla perché questo teaser che è un teaser più che un trailer penso che il trailer arriverà poco prima della data ufficiale che la data dovrebbe essere il 31 agosto quindi penso in prossimità di quella data vedremo un trailer vero e proprio allora io me lo sono rivisto più volte ma sono risso più volte sa qui vi invito a guardarvelo adesso non ve lo mostro per ovvi motivi altrimenti se c'è un bordello però voi andatevelo a vedere ce lo siamo già visti la scorsa volta sempre qui sulla piattaforma viola come lo sono rivisto da solo diverse volte perché dovevo capire un attimino ma sono visti asiaco diciamo in italiano che in lingua originale in inglese eccetera so anche che forse questo non è una cosa ufficiale lo ho detto solamente ai sub lo dico anche a voi potrebbe esserci anche maurizio merruccio il mio amico nel doppiaggio futuro vedremo se sarà così se fosse così sarei molto soddisfatto allora ragazzi io mi metto in mezzo io sto al centro molto spesso l'uomo della verità che sono io insieme a catacuri due uomini della verità però più che altro veniva rivolta a me sta cosa della questione di essere tra virgolette un nemo cristiano per una questione quasi come se poi nell'accezione che spesso da chi veniva usato era anche abbastanza ambigolo che non sapeva cosa significasse però quello che io voglio dirvi e che io sto in mezzo perché ho visto che ci sono molti che hanno fatto una critica molto cruenta aspra tipo il limone cattiva nei confronti di questo teaser che praticamente sarebbe nemmeno un vero e proprio trailer ma una via di mezzo iniziale allora quando esso stato registrato tipo quasi un anno fa è quello che ci è stato detto quindi da quello che si capisce è un qualcosa che poi potrebbe essere stato sia migliorato tecnicamente per quello che noi vediamo sia addirittura in qualche parte peggiorato ma ovviamente tutti e due lati ci sono io non credo che ci possa essere stato un peggioramento però nella vita non si può mai sapere se per me sarà sicuramente migliorato e quindi il primo focus è questo possiamo parlarne però ricordiamoci che è una cosa iniziale poi ci sarà il trailer poi ovviamente guardiamoci gli episodi perché netflix sicuramente toccherà un bocino di utenza diverso perché io sono da vedere anche sotto i commenti sotto al canale youtube ufficiale di netflix e ci sono persone che hanno detto che non hanno mai letto il manga non hanno mai visto l'anime e si approcciano per la prima volta a one piece e questa è una cosa importante magari poi dopo rivengono anche a leggersi in manga che è l'opera primaria primigenia della verità però io voglio di questo che questo è fondamentale ci sono state molte persone che hanno parlato molte molte troppe ovviamente siamo in demorazione lo possono fare ma non sapendo le cose gente che chiama rufi rabber gente che chiama usop asop gente che probabilmente non sa letta nemmeno un volume non sa quello che dice su barati non sa quello che dice su sanji non sa quello che dice su zoro su usop eccetera persone che si sono lamentate per sé dei sandali non sapendo che tecnicamente c'è stata una spiegazione che determinate scene non sarebbe potuto messa in atto eccetera cioè la gente che non ha mai letto in manga non sa se fosse nemmeno un episodio ha fatto dei commenti cruenti su cose che in realtà poco contano se non ci sono però ovviamente degli aspetti che posso definire negativi non voglio essere così cattivo aspetti meno positivi allora ieri l'altra volta scherzando ho detto mi ero mi ero confuso solo per una vega ma anche detto l'intelligenza artificiale volevo dire la computer grafica no ovviamente la cgi allora il re diciamo il re della scogliera tra virgolette quello che divorò il braccio di shanks quello che poi viene preso a pugni c'è uno da rufi quando rufi parte eccetera eccetera è stato fatto a metà in metà nel senso che da una parte inizialmente io vedo una mostruosità nel senso positivo di una bestia che sembrava quasi il manga cioè se voi prendete il manga l'anime è uguale dall'altra parte di faccia sembra un po' differente però c'è quell'effetto che c'è dall'acqua quel shanks preso di spalle perfetto quando rufi allunga il braccio sono rimasto a metà in metà da una parte dico però forse questo effetto super gommoso è giusto perché rufi è di gomma dall'altra dico questo è stato tirato i braccio di sette nei tre quarti d'ora può fare un giro e non vedo nemmeno è sempre il teaser il scusate la parola il rinculo cioè può quando torna come un colpo di pistola quello è pistola ma un colpo di pistola il primo colpo di rufi quindi nì è ovvio ho parlato anche con chi dovere ci sono delle serie netflix che per ogni singolo episodio hanno stanziato i doppi e triplo anche economicamente di one piece e quindi capisco anche che determinate cose ea seconda del budget che uno ha zoro di origini nipponiche va bene che in parte nipponico il ragazzo ci sta anche abbiamo scoperto cioè avete scoperti lo sapevo già con caracuri che zoro originariamente fosse di wano wano è l'antica giappone quindi penso meglio di questo non poteva discendere di shimano il fratello di furigo discendere di riu ma sappiamo usop ci sta voi direte il naso ragazzi c'è chi si lamentava che doveva essere trasposto uguale e quindi dicono u buggy poi dico cioè ci sta chi si lamenta che bug è troppo uguale è brutto chi invece dice eh però non hanno messo il naso usop però buggy non va bene usop doveva avere il naso ragazzi se non vi piace buggy figuratevi cosa succedeva se a usop gli mettevano il naso finto così grosso lo facevano con la computer grafica quindi chi ha tutto e chi ha un po secondo me la verità basta e mezzo usop ci può stare anche se non ha quel nasone l'importante sia la caratterizzazione del personaggio allora quando quando vedremo gli episodi lui dovrà essere uso d'accordo di più dovrà avere paura si dovrà essere un cagasotto dovrà essere a momenti però anche agguerrito che durante la sua paura mentre terrorizzato riesce a sfodere solo mi sembrava così visualmente poi colore dei capelli forse spero gli faranno una tinta leggermente migliore nami è bella cioè l'attrice calzante ci sta però ci sono alcune e la ragazza alcune volte in cui dipende dalle scene perché probabilmente sono state prese frame di parti diverse della sceneggiatura degli episodi in cui sta meglio in alcune parti non si capisce che si è messa in testa in alcune parti invece sta bene non ho credo perché non c'è stato un continuity di mettergli o una parrucca giusta o una tintura giusta però sono delle cose che si possono sistemare luffy mi va bene a me luffy mi va bene simpatico cerca di fare lo stupido deve essere un po più stupido cioè un po più stupido è un'accezione giusta rufi è un po maldespo con la testa delle nuvole così però non è stupido nel vero senza la parola ma c'è sanji senza prima diciamo da fuori l'attore mi poteva dare più l'impressione di un enero di un eminem poi si è messa la parrucca hanno sistemato e ci sta forse forse poteva essere un po più giovane l'attore però ha un senso per come impostato quindi io vedo l'affiatamento della della giurma vedo gli attori che si impegnano ovviamente il teaser poi bisogna un attimo capire ragazzi saranno sicuramente tagliati dei punti perché sarebbe otto episodi quindi devono tagliare dei punti sicuramente aggiungeranno altre scene potrebbero essere anche niente infatti vi dico uno hanno cambiato spesso i vestiti e sono scelti dalle cover a colore di yoda le color spread quindi queste saranno sicuramente la genialata di yoda sicuro nel senso che vi ricordate le cover a colore che ogni tanto ci regala regalate anche nell'ultimo capitolo e hanno messo i vestiti di conseguenza la going merry sembra più vera e anche le altre navi sembrano più vere meno hanno fatto un mix fra cgi e quindi voler andare e quindi un po più cartunesco c'è è un mix di qualcosa di più reale c'è una specie di equilibrio i sandali no usoppina sono buggy terrificante nel senso che è uguale a quello del manga io ho visto stories incredibili sottofondo musicale preso da dalle situazioni originali mi è piaciuto c'è un equilibrio c'è un equilibrio un teaser dice poco ho visto dei frame alcuni non li voglio spiegare tecnicamente perché si spiega un frame tecnicamente e poi ci vediamo l'episodio e quel frame era solamente per il teaser e l'episodio poi dice tutt'altro io posso dirvi come l'episodio mettermi a fare l'espetto di teaser che magari non dice tutto è stato già cambiato avrà raggiunto nel trailer vedremo cos'è insomma così alcune volte possono sembrare dei cosplayer così così altre volte sembrano impersonificati bene vabbè l'avranno già detto tutti si vede posità e positane quella posto fantastico fantastico dovete andarci adesso ci siamo stati si vede un'altra cosa abbiamo visto a copia abbiamo visto al vida sembrerebbe qualcuno ha detto una cosa qualcuno ha detto no sempre da dalle fonti perché ragazzi le fonti straniere dove le prendono un po tutte queste info sono i lix lix che prendono da twitter sembrerebbe che zoro abbia battuto in questo frame abbia abbia combattuto e poi abbia vinto probabilmente con il precedente mister seven che cercò di far entrare zoro nella bar or quarks vedremo se sarà così o no c'è uno schizzo di un sbs che sembra uguale a quel personaggio magari sarà una cazzata magari no saremo a vedere il succo è questo ci sono delle luci e delle ombre come sempre in tutto nella vita però dobbiamo dare uno noi che siamo gli utenti veri di one piece noi che leggiamo in manga noi che analizziamo in manga noi che scriviamo i commentoni noi che minuziosamente guardiamo tavola per tavola dobbiamo dare una possibilità a one piece perché questo one piece su netflix verrà visto da chi lo ama come noi da chi lo odia perché ci sarà chi odia one piece in generale da i criticoni rosiconi gli zii di papa castoro e nipoti di papa castoro tutti insieme po 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 e ci sarà sicuramente chi sarà in mezzo ovviamente io non mi metto né da chi lo amerà a prescindere perché è una cazzata amare qualcosa a prescindere no no nemmeno da chi lo criticherà a prescindere metto giusto e mezzo io voglio capire voglio osservare e poi alla fine giudicare con minuzia per dire solo la verità quindi che dobbiamo fare ci dobbiamo vedere live action ci dobbiamo vedere trailer non in teaser vediamo gli episodi e poi andiamo avanti alcuni si lamenteranno diranno forse hanno saltato i pezzi di drama in qualche video non lo so sicuramente avranno detto probabilmente altrimenti se vuoi fare tutto trasporto tutti in manga non ci vogliono otto viso ci vogliono 800 qualcuno diranno aggiunto scene che non ci sono alcuni diranno presa le cose dall sbs altri diranno hanno preso le cose del color spread altri diranno questo frame è così questo frame è così come lo fanno l'uomo pesce come lo fanno questo come lo fanno io vi dico che prendano pezzi trasposti uguali che prendano pezzi trasposti diversi che prendano pezzi fatti così che prendano le cose ragazzi il manga sta là sta là l'anime sta là l'sbs ci sono i databook ci sono le novel ci sono i viacati ci sono i magazine ci sono mettiamo pure il live action non fa niente uno è l'opera vicino il manga tutto il resto è il contorno del mondo one piece ma non si mischia non si mischia niente non si infiscia niente al massimo quello servirà a far sì che un'altra fetta di pubblico che non conosce l'opera che noi che la conosciamo sappiamo già vada verso lì per venire poi verso qui cioè dalla verità dal manga si vedono quelli eccetera eccetera ovviamente voi fatevi una vostra idea ditemi la vostra e non fatevi influenzare da i pareri troppo positivi o troppo negativi ci sono dei premi importanti la scaghiere rufi zoro sanci nami usop cobi alvida poveraccia poi verranno altri attori verranno altre situazioni ovviamente c'è tutto un lavoro dietro c'è la supervisione di odio vabbè la supervisione di odio ci sta pure sui film dell'anima però non è che questo sia qualcosa l'importante è che questa è una cosa fondamentale la cgi che deve essere migliorata qualche costume così sembrare un po meno cospera sembra più vero l'importante fondamentale è che non mischiamo le due cose una cosa è live action e una cosa è il manga no l'anima è il manga perché il manga è l'opera già l'anima è extra va bene